Allora, adesso ti racconto la tua nascita. C'è curioso io. Tu hai fatto i complimenti fino a mo'. Tua madre era giocosa con le sue amiche quando era più giovane. Quindi un giorno una delle sue amiche gli ha fatto uno scherzo di rimando. Ha detto, adesso spalmo degli escrementi di cane su questa panchina. E poi faccio sedere la signora mamma di Alex, no? Quando l'escremento del cane è avvenuto a contatto con l'apparato genit... Che schifo, no. Cosa? Io lo sapevo che andavo a fare lì la pallese. Da questa unione sei venuto tu. Le amiche della botte di Alex sono proprio maligne. Beh sì, hanno fatto un brutto scherzo. Mi li so, c'ho comunque... Che schifo. Anna, sta arrivando la cena. Farai dopo tu il test allora. Ma io l'ho passata. Eh ma c'è tutto il test, è lunghissimo. E ancora è enorme da finire. No no!